Devo dire che forse il risultato è la testimonianza di tutto quello che siamo riusciti a dare in questo triennio, un triennio sicuramente molto complicato in cui anche la pandemia ha dato un peso maggiore a quello che era la nostra consigliatura e questo risultato inaspettato anche perché gli avversari erano sicuramente degli avversari di tutto rispetto 10 a 5 per la mia squadra è sicuramente un risultato per noi esaltante. È ovvio che da oggi in poi si volta pagina e sicuramente tutti insieme dovremmo lavorare uniti e compatti anche perché ci aspettano nuove sfide da poter e dover affrontare.